Bentornato o benvenuto in una nuova lezione di italiano. Io sono Alberto, il fondatore di Italiano Automatico, e aiuto ormai da dieci anni studenti come te a imparare questa bellissima lingua. La lezione di oggi ti aiuterà ad arricchire il tuo lessico, infatti imparerai quattordici espressioni italiane molto comuni che vengono usate tutti i giorni in Italia. Ampliare il tuo vocabolario con nuove espressioni è importantissimo, soprattutto se vuoi capire e parlare l'italiano con facilità. Prima di iniziare a spiegarti le quattordici espressioni, volevo dirti che alla fine di questa lezione potrai scaricare gratuitamente il video e il pdf dell'espressione avere, essere di fretta. Questo video che ho registrato con mia mamma è contenuto all'interno della piattaforma pagamento di Italiano per la vita e alla fine di questa lezione ti daremo l'opportunità di scaricare l'intero modulo gratuitamente per farti provare uno dei moduli più apprezzati della piattaforma. Detto ciò possiamo iniziare la lezione di oggi ed ecco qui quattordici espressioni italiane comuni che dovresti sapere. L'espressione non mi va significa non ho voglia, non me la sento di. La usiamo quando non abbiamo voglia di fare una cosa. Al contrario, quando abbiamo voglia di fare una cosa, usiamo l'espressione mi va. Vediamo degli esempi Oggi non mi va di andare al cinema Non mi va di cucinare Che ne dici se ordiniamo delle pizze? Neanche per sogno Neanche per sogno Neanche per sogno si usa per dire che non si ha la minima intenzione di fare una cosa. Diciamo neanche per sogno per dire assolutamente no. Per nulla, mai e poi mai. Si utilizza quindi per dire che quella cosa non accadrà mai. Le possibilità sono minime. Pensi di dare una seconda possibilità a Roberto? Dopo quello che ha fatto al primo appuntamento? Ma neanche per sogno. Fare una cavolata Fare una cavolata Questa è un'espressione molto comune nel linguaggio colloquiale E significa fare un errore Fare uno sbaglio Fare una cosa senza senso Fare una stupidaggine Il verbo fare si coniuga normalmente E poi si aggiunge semplicemente una cavolata Vediamo alcune frasi esempio Per me ha fatto una cavolata Si usa per dire che una cosa è stata fatta molto velocemente Federica ha fatto le valigie in fretta e furia Ed è partita senza salutare nessuno Abbiamo finito il progetto in fretta e furia Per rispettare le scadenze del nostro capo Roba è una parola italiana usata molto nel linguaggio colloquiale Con il significato di cosa Letteralmente tanta roba significa quindi tante cose Una moltitudine di cose Però tanta roba è un'espressione anche che si usa soprattutto nel linguaggio giovanile Per esprimere stupore, sorpresa, ammirazione Per dire wow, che bello, che bella, che buono, che buona Come capita in questi esempi Hai visto quella Ferrari? Tanta roba Hai mai assaggiato la pizza napoletana? È tanta roba Sei fuori Sei fuori Quando un tuo amico o una tua amica inizia a dire cose senza senso Stupidaggini e cose senza logica Puoi dirgli o dirle Ma sei fuori? O Tu sei fuori Tu sei fuori Andiamo a fare una passeggiata in montagna Ma sei fuori? Sta piovendo a dirotto da questa mattina Piovere a dirotto significa piovere tanto Diluviare Acqua in bocca Acqua in bocca Quando un italiano ti dice mi raccomando acqua in bocca Non ti sta chiedendo di tenere dell'acqua in bocca Bensì ti sta dicendo di non dire a nessuno quello che ti ha detto Di mantenere il segreto Di non divulgare quello che ti ha confessato Questa cosa non deve saperla nessuno Quindi acqua in bocca Mi raccomando Acqua in bocca Questa cosa deve rimanere tra di noi Fare caso Fare caso Fare caso significa prestare attenzione Notare Badare Hai fatto caso al nuovo taglio di capelli di Martina? Se ci fai caso Quando c'è un problema C'è sempre di mezzo lui Che macello Che macello L'espressione che macello Significa che disordine Che casino Che confusione Si usa quando ci troviamo in una situazione caotica Quando siamo in un luogo con tante persone O un luogo molto disordinato Che macello ragazzi Non pensavo che ci sarebbero state tutte queste persone al concerto Che macello avete fatto in cucina? Che figuraccia Che figuraccia Una figuraccia è una brutta figura Si usa per dire che una persona ha fatto una cattiva impressione La parola figuraccia è spesso insieme al verbo fare Nell'espressione fare una figuraccia Vediamo degli esempi Il cameriere è caduto davanti a tutti nel suo primo giorno di lavoro Povero Che figuraccia Tanto per cambiare Tanto per cambiare Questa espressione cambia di significato in base al contesto Se viene usata in modo letterale Significa Per fare qualcosa di diverso Per cambiare Ma si sente più frequentemente in tono ironico Per esprimere l'esatto opposto Ossia per dire come sempre Come al solito Per indicare qualcosa che si è soliti fare Sono sicuro che con gli esempi ti sarà più chiara Tanto per cambiare Giuseppe sta fumando una sigaretta Tanto per cambiare Sta piovendo anche oggi Tanto per cambiare Oltre allo zaino Ho dimenticato anche il cellulare Non prendertela Non prendertela Quando vedi una persona triste, offesa o arrabbiata Puoi usare l'espressione non prendertela Oppure non te la prendere Che significa non dare troppo peso a questa cosa Non dare troppa importanza Non devi sentirti così triste o arrabbiato Non prendertela per così poco Sono sicuro che si sistemerà tutto Non prendertela con Elisa Lei ha fatto il possibile per aiutarti Essere in alto mare Essere in alto mare Questa comune espressione italiana Significa essere in difficoltà Essere lontano dall'obiettivo Lontano dalla risoluzione di un problema Dobbiamo consegnare nuovi prodotti entro domani mattina Ma siamo in alto mare Il matrimonio è tra qualche giorno E siamo ancora in alto mare Con i preparativi Prendere due piccioni con una fava Prendere due piccioni con una fava Questa espressione significa Raggiungere due obiettivi allo stesso tempo Con un unico sforzo Quando con una sola azione Si conseguono due scopi I piccioni sono degli uccelli Quelli che si trovano sempre in piazza San Marco a Venezia E la fava è una pianta erbacea Che produce dei semi di colore verde Simili ai fagioli Per farti capire l'espressione ti faccio un esempio Anni fa pubblicavo su questo canale Un video al giorno Ma questo ovviamente mi richiedeva tanto tempo Che non potevo passare con la nonna Così un giorno ho pensato di registrare un video Mentre bevevo il caffè con la nonna E così ho preso due piccioni con una fava Creavo dei contenuti in italiano per gli studenti E allo stesso tempo passavo del tempo di qualità con la nonna Ecco qui ragazzi 14 espressioni italiane molto comuni Le conoscevi già tutte? Fammi sapere nei commenti Se c'è un'espressione che non conoscevi E che hai imparato nella lezione di oggi Come sempre per memorizzare queste nuove espressioni in modo naturale Ti consiglio di guardare più volte questo video O ascoltarlo in formato podcast su Spotify O sulle maggiori piattaforme di podcast che ci sono e che verranno Ora come promesso per aiutarti nell'apprendimento Abbiamo preparato per te un bellissimo regalo Preso direttamente dalla piattaforma di Italiano per la vita È la spiegazione di un'altra espressione italiana molto comune Che è avere essere di fretta In un piccolo video io e mia mamma ti spieghiamo il significato di questa espressione Dandoti tante frasi esempio e dicendoti quando e come viene usata Oltre al video avrai anche la possibilità di scaricare la trascrizione e l'audio separato Per ottenere tutti questi bellissimi materiali in regalo Ti basta cliccare sul link in descrizione E prima di salutarti volevo ricordarti che a gennaio Riapriremo le iscrizioni a Italiano per la vita Al cui interno avrai completo accesso a tantissimi contenuti Come quello che puoi scaricare gratuitamente oggi E tantissimi altri con moltissima varietà Oltre che a tanti servizi utili per migliorare il tuo italiano mentre impari cose nuove Per ricevere un messaggio privato nel momento esatto della riapertura Ti consiglio anche di iscriverti alla lista d'attesa cliccando sul link che trovi sempre in descrizione Come sempre se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace Ci aiuta molto a cliccare sulla campanella o iscriverti al canale se non lo hai ancora fatto Per ricevere questi contenuti ogni settimana gratuitamente su YouTube E io ti mando un grande abbraccio Ci vediamo nel prossimo video E grazie per essere arrivato fino qui con me oggi